Questa è una palla cinese fritta, da mangiare, è enorme e super particolare. Tra poco vi faccio vedere cosa contiene. L'ho mangiata in un ristorante di Tokyo dove praticamente friggono della pastella per molti minuti. La pastella poi si ingrandisce sempre di più diventando gigante. Si ordina sul tablet e costa 1800 yen, circa 15 euro. E quando la portano rimango a bocca aperta. Fuori c'è del sesamo. Sono qua con la mia amica Ayumi. Anche lei è incredula. Rompiamo la palla. È croccantissima e c'è un profumo dolce, ma non troppo. Dentro c'è solo aria. E per fortuna, perché mangiare questa palla riempie tantissimo. Bella e molto molto particolare. Cioè, troppo spettacolaris. Grazie.